Musica Amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale e di superbike Ben tornati a un'altra diretta di DrumTube, domenica di gara della Superbike e quindi questa diretta è dedicata alla Superbike, al Gran Premio dell'Emilia Romagna credo si chiamasse, comunque Gran Premio di Misano Gran Premio dominato in tutte le maniere, in tutte le formule, in tutte le gare da Alvaro Bautista un dominio che in qualche maniera sta forse anche diventando un po' noioso per la categoria passatemi il termine, so che poi dopo i Ducatisti si arrabbieranno per quello che ho detto ma non è una colpa di Alvaro e né una colpa della Ducati è un merito della coppia Bautista-Ducati Ecco, un Gran Premio comunque secondo me che ha mostrato qualche limite spettacolare non soltanto per il dominio di Alvaro Bautista ma di tutto questo ne parliamo assieme al mio ospite è un ospite per me molto gradito, non lo vedevo veramente da tantissimo tempo l'ho contattato, siamo riusciti a metterci d'accordo per fare questa diretta e quindi vado a presentare Lorenzo Lanzi Ciao Lorenzo, buonasera, grazie di essere mio ospite Ciao a tutti, grazie a te ZAM di avermi invitato sono molto contento di essere qua stasera Allora, ricordiamo che Lorenzo è uno dei piloti italiani che ha vinto almeno un Gran Premio in Superbike in realtà di Gran Premio in Superbike ne ha vinti tre dico bene Lorenzo? Dici bene, esatto Tre Gran Premi, tre vittorie allora direi due nel 2005 e uno nel 2008 Esattamente, bravo Giusto? Perfetto E sette podi sette podi che comunque insomma ragazzi sono tanta roba Allora, Lorenzo, prima di andare a parlare della gara di Misano eccetera eccetera raccontaci un po' di te, dai perché tu hai corso nel Mondiale 250 con Campetella se non mi sbaglio Sì, esatto Poi hai corso nel Mondiale Supersport hai vinto una gara in Supersport hai corso nel Mondiale Superbike corri ancora adesso insomma, raccontaci un po', dai fai un bigino, come si diceva una volta, della tua carriera Ma guarda, in realtà coro da più perché come tutti abbiamo iniziato da bambini però diciamo nel Moto Mondiale sì, esatto hai zecato tutte le date che poi è lì dove noi ci siamo conosciuti proprio nel 2001 Mondiale 250 un Moto Mondiale è una moto che ancora oggi amo l'Aprilio 250 da Gran Premio che credo sia una delle moto migliori in assoluto al mondo mai costruite ho avuto la fortuna di correrci purtroppo solo un anno perché poi sono successi un po' di vicissitudini però l'ho apprezzato tantissimo e mi è rimasta nel cuore dopodiché poi sono saltato sulle quattro tempi senza sapere niente di quelle moto lì dal 2003 l'italiano che ho vinto poi l'europea poi il mondiale fino ad arrivare al mondiale Superbike passando dal Supersport quindi è stato sicuramente abbastanza veloce non come adesso perché chiaramente adesso l'età si è abbassata notevolmente anche in Montesi qui abbiamo visto però in Superbike ero negli anni giusti avevo 23-24 anni quindi alla fine era indubbiamente il momento migliore ecco è stato molto bello ho condiviso poi due anni in box con Troy Belis anche lì altra fortuna perché tutti i ducatisti che ho ancora che mi seguono tanto in parte anche in merito di Troy oltre alle gare che ho vinto perché comunque lui è veramente molto amato e seguito tra di noi c'è un bellissimo rapporto e quindi anzi ti dirò guarda quando io corro adesso nel campionato italiano no? nel National Trophy 1000 lui l'anno scorso essendo in Italia per il figlio per Oliver che iniziava la sua esperienza nel mondiale Supersport è venuto a Misano apposta per salutarmi questo per farti capire la grandezza la grandezza di un pilota come lui tre volte campione del mondo tutto quello che ha fatto però un'umiltà incredibile ancora da fare invidia veramente ecco io ho avuto la fortuna di conoscere Troy Belis quando ha corso nel moto mondiale perché io la Superbike la seguo da appassionato ma insomma non ci ho mai lavorato non ho mai avuto modo di conoscere bene i protagonisti però Belis ha corso anche nel mondiale fino a quella incredibile prestazione di Valencia 2006 ecco tu che hai condiviso il box con lui lui nella Superbike Lorenzo faceva proprio una differenza abissale un po' come fa Bautista adesso o non è paragonabile questa cosa? Sì io credo che lui avesse una grandote di indubbiamente noi avevamo uno dei team migliori e su questo non ci piove come Bautista oggi quindi quello aiuta sempre però è chiaro che anche quando la moto non è al 100% andava forte uguale per dire non so a Monza ha fatto una proposition con la Monza di dietro che gli si è scoppiato nel giro di lancio quando ancora la Superpole era di un giro cioè per dirti lui non si è fermato come avrebbero fatto la maggior parte dei piloti ma ha detto faccio il giro vediamo cosa succede no? nonostante avesse alla fine già tre figli per farti capire anche questa cosa qua uno piccolissimo Oliver che adesso è più grande di me lo vedo ma lì aveva forse un anno due nel 2006 adesso non ricordo di che anno è però per farlo visto crescere ecco quindi per farti capire quanto era forte Troy mi porta dietro sicuramente un bel bagaglio di esperienza e ho imparato tanto da lui sia in pista che fuori in qualche occasione sono riuscito anche a batterlo come proprio nella gara di Valencia nel 2008 che lui due anni prima aveva fatto quella gara pazzesca con la GP quindi comunque dal mio lato ho avuto anche delle belle soddisfazioni e lui è stato il primo a farmi complimenti e a dirmi cacchio mi sei stato dietro per 23 giri e mai passato a tre curve dalla fine sei un bastardo in italiano te l'ha detto in italiano sul foglio questo che bello che bello poi magari Lorenzo torniamo a parlare un po' di Troy Bales perché piace tantissimo agli appassionati insomma non mi ricordavo anzi non sapevo di questa tua amicizia con Troy quindi insomma è piacevole allora Lorenzo io nelle mie dirette seguo molto i lettori ho una mia scaletta ma alla fine guardo sempre quello che dicono i lettori allora ad esempio comincio subito con Argo64 perché dice dell'entrata di Rinaldi in Superpol a Bassani che l'ha rialzata per non farlo cadere cosa ne pensi Zama io giro la domanda Lorenzo che secondo me è più adatto di me a giudicarla allora io credo che la sicurezza deve essere indubbiamente al primo posto sempre è chiaro che adesso lì ci si gioca un posto abbastanza elettrico esaltante che è il posto nel team ufficiale e capisco entrambi chiaramente Michael è quello più in difficoltà dei due perché ha tutta la pressione è obbligato a fare il risultato l'altro invece sa benissimo che ha una moto praticamente come quella di Michael che non è come quando noi eravamo privati che c'era veramente una differenza ricordi anche nel mondiale con le gomme e tutto invece adesso le gomme grazie a Pirelli che ha fatto un prodotto incredibile sono prestanti con tutte le moto a tutti i livelli e quindi lui si trova con una moto realmente simile a quella di Michael però è chiaro che da l'Ultro questi magari ingressi che fa le gare che gli arriva davanti magari molto in questo senso qui perché è normale è sempre successo un team privato che arriva davanti un team ufficiale è chiaro che io credo che in alcuni casi ci possa stare in altri meno però lo sai anche te quando tu arrivi al limite tiri la staccata e poi entri dentro l'altro se ti vede rialza la moto se no c'è il contatto però è chiaro che in parte secondo me ci può stare magari più in gara che in prova però se in quel momento lì sai che hai la gomma nuova hai solo quel giro lì e c'è uno più lento è chiaro che devi cercare di passarlo considera che noi queste entrate qui per scherzo ce le facevamo nel pad con Aga Corsair dal motoroma mentre andavamo al box a prendere la moto ancora dovevi iniziare le prove libre del venerdì mattina per farti capire bella bellissima questa cosa che ci ha raccontato l'Oletto ecco io anch'io l'ho vista come un'entrata molto decisa forse al limite ma secondo me insomma se togliamo queste cose qua veramente insomma è la fine del motociclismo io la vedo un po' così Lorenzo anche in MotoGP vedo penalizzare certe cose che a me lasciano un po' perplesso come la vedi tu sì no assolutamente ti dico le moto sono andate un tanto avanti forse troppo è chiaro che adesso fanno sempre più fatica a fare dei sorpassi no meno al limite i piloti sono anche costretti tante volte a zardare quel pillino in più perché non c'è proprio più margine di spazio tra l'aerodinamica tra le gambe che si aprono e quindi alla fine se vuoi passare qualcosa ti devi inventare sì sì sono assolutamente d'accordo allora intanto Pezzo dice ad esempio Bassani merita assolutamente la Ducati ufficiale devo dire che almeno tra quelli che seguono il mio canale devo dire che Bassani è preferito in qualche maniera a Rinaldi ad esempio Simone dice Rinaldi soffre tutti in pista da Bassani al Turco vabbè poi anche conti anche Isaac Vignal insomma adesso non so se tu tu li conosci loro due conosci i piloti allora con Axel ci ho corso un anno nel Civa addirittura quando era Yamaha e anche Michael sì sì lo conosco ci siamo visti a qualche evento a Ducati tipo il Dre quelle cose lì e ti dico a me piacciono tutti e due sono due persone sono due ragazzi semplici però si arriva a un punto che i tifosi li capiscono Michael qualche anno di possibilità l'ha avuta e quindi alla fine ci può stare adesso che se guardiamo ci guardiamo un po' attorno anche come piloti italiani credo che questo inserimento di Axel nel team ufficiale di fatto ce lo sta anche meritando perché anche oggi ha fatto una bellissima gara quindi credo che ci possa stare e penso anche che che in Ducati ci stiano seriamente pensando a questo punto allora Claudio dice premetto che io stravedo per Bassani in questo ragazzino vedo un giovane Fogarty che ne pensate? un'importante allora questi sono paragoni sempre un po' difficili da fare sono delle epoche troppo diverse con moto troppo diverse Carlo era un'altra persona di quelle tipo la Troi che se gli mettevi l'amorzatore a posto della forcella non se ne accorgeva e vinceva uguale per farti capire credo che Axel abbia tutte le carte in regola anche se con un bautista così e le toprach in questa maniera sono veramente fortissimi e sarà fatica anche per Axel anche se dovesse approdare al team ufficiale credo che comunque sarà difficile stare con loro tutte le gare tutte le manche in tutte le condizioni la differenza che fanno loro è che sono sempre lì in tutte le condizioni in tutte le piste che vanno hanno veramente un ritmo incredibile allora intanto ti saluta Alex Modo che dice saluti a Lorenzo lui è un grande ho il suo cappellino ed ero tesserato al suo fan club ciao da Cesena un disabile saluto Alex perché è uno che mi segue sempre e mi fa piacere che sia sempre appassionato di moto allora e invece Pietro ti dice ti chiede per sostituire Rinaldi può essere anche preso in considerazione Bulega che sta facendo anche molto bene prima della tua risposta Lorenzo ricordo che Bulega oggi ha fatto secondo battuto nel finale da una grandissima gara di Stefano Manzi e loro due si sono giocati anche la prima vittoria anzi Bulega ha vinto un po' per distacco e secondo Manzi con Care Casuro terzo nella gara di ieri allora come lo vedi tu Bulega è uno è uno che può che può secondo te puntare a quel posto lì ma io credo che sia un po' presto nel senso che tra la Super Sport che guida lui che è vero che ha quasi un 1000 di cilindrata però dal di lì a passare una Super Bike che non è più la moto di serie che ci ricordiamo noi ai tempi di Fogarty e di Falappa è molto diversa è molto complessa è vero che sia nel team ufficiale quindi gli ingegneri ti aiutano tanto però è un azzardo abbastanza importante per il team credo che Bulega possa vincere il campionato ci sta promuovere un Super Bike ma io sinceramente lo farei più in un team come quello di Lorenzo Mauri che ha dimostrato assolutamente velocità è sempre lì con le prime Bassani sempre davanti o da Barmi oppure anche da Sacchetti che credo che sia quello che ha meno aggiornamenti di tutti però bene o male Hotel è sempre nei dieci ultimamente quindi alla fine le opportunità ci sono per non io sinceramente darei più la possibilità a Bassani ma Lorenzo perché la pressione del team ufficiale è grandissima per un pilota sì e l'ha dimostrato anche Bautista nel 2019 che quando non c'è la tranquillità giusta ci sono le cose che non funzionano come dovrebbero loro danno ma pretendono chiaramente magari per qualche motivo l'ingranaggio si inceppa e di lì dopo diventa l'aria ed inizia ad essere pesante ti è capitato Lorenzo sì mi è capitato un periodo sì magari se avesse avuto la motorità di ora le cose sarebbero state diverse lì ero non giovanissimo come sono i piloti di ora però per l'epoca ero giovane uno dei più giovani 21 anni 22 anni quindi sicuramente l'avrei affrontata in maniera diversa per tanti motivi Lorenzo prima di passare un'altra domanda dei nostri appassionati ecco vedo che nelle tue risposte premetti tanto i tempi tuoi di Belis di Fogarty di Aga che è stato un periodo meraviglioso della superbike ecco questo è naturale vuol dire propensione perché tu hai corso quel periodo oppure vedi che la superbike di adesso non è quella superbike lo dico in generale non è né una critica voglio dire è una considerazione tu come la vedi di lì io ho vissuto un periodo bellissimo come quando fai il campionato italiano giri in ciabatte nel paddock con i bermuda vai magari a prendere un caffè dalla yamaka io andavo da batà per dire in Suzuki a salutarlo a mangiare magari un panino per dire no era tutto molto open secondo me rispetto adesso adesso c'è un po' il timbro della dorna che per alcune cose sicuramente l'ha migliorato ma vediamo che lo schedule è quello Montagp in pratica no io i fratelli Frammini a me piacevano molto ti dico la verità poi c'era anche dentro Gio di Pillo quindi ci facevano passire tutti noi italiani è stato veramente un periodo che io ho vissuto molto bello poi anche della 250 comunque dei bellissimi ricordi poi vedevo Capirossi in pista Vale Stoner cioè comunque anche quello è stato un periodo fantastico di quegli anni Roberts comunque gli ultimi anni dai diciamo che sia di qua che di là secondo me ha beccato gli anni migliori ok ecco ma tornando alla Superbike di oggi ad esempio a me oggi mi ha colpito che tutti i piloti della MotoGP che venivano intervistati durante la gara insomma mi viene in mente Morbidelli o Biaggi o Giannone che insomma spunta a tornare eccetera eccetera allora tutti dicendo è sempre bello venire a vedere la Superbike è sempre molto spettacolare ecco io devo dire che purtroppo oggi come anche nella gara precedente non è stata spettacolare la gara perché al di là di Bautista togliamo Bautista che allora domina in una maniera in cui io non ho mai visto dominare nessuno almeno che io mi ricordo con questa facilità tra virgolette ecco però togliamo Bautista però non è che anche dietro succede chissà che cosa allora voglio sapere la tua opinione in generale appunto sulla spettacolarità e se eventualmente se vedi un motivo per questa mancanza difficoltà di sorpassi eccetera è come dicevi tu all'inizio Zam che alla fine Ducati sta facendo delle moto pazzesche sia MotoGP che Superbike quindi ha alzato l'asticella notevolmente è chiaro che forse c'è un problema di base io mi ricordo che i vecchi campionati Superstock dove veramente le moto erano di serie erano fantastici ogni domenica vinceva un pilota diverso la stessa Superbike mi ricordo che quando prendevo un secondo io facevo fatica a fare la Superpol per dire ed eravamo tutti molto più vicini magari a livello di tecnologia si sta andando troppo avanti anche il Superbike le vedo un pochino come le MotoGP di dieci anni fa cosa che invece la Superbike dovrebbe rimanere molto più di serie da quel lato secondo me quindi bisognerebbe intervenire a livello regolamentare insomma secondo te Lorenzo secondo me sì perché adesso che si ha una gomma come Pirelli di questo livello secondo me bisognerebbe un pochino fare delle restrizioni che puoi preparare il motore praticamente tutto il telaio forcellone link tutto l'avantreno a parte i freni che ci sta perché è sicurezza quindi quello sono assolutamente d'accordo elettronica incredibile Marelli super sviluppata quindi sì secondo me quello potrebbe aiutare ma soprattutto per i costi perché i team privati adesso sono tutti presi per il collo vediamo proprio delle differenze tra i team privati abissali si fa presto dire guarda Pio Di Cini guarda B Max piuttosto che l'altro team della Repubblica Ceca cosa vanno a fare ci provano ci provano investono tanto nonostante non abbiano i risultati perché oggi non è che fa il campionato con 200 mila euro quindi loro sono lì che spendono tantissimo ma è chiaro che sono delusi demoralizzati perché non hanno la possibilità di competere con quello che hanno a disposizione nonostante spendano veramente tanto questo è il problema secondo me c'è troppo divario ok è molto chiaro allora intanto vi faccio vedere prima vi ho fatto vedere la classifica di gara 2 di oggi e questa è la classifica della come si chiama Super Pole Race allora Lorenzo nella Super Pole Race c'è stato questo incidente in partenza che ha visto con Petrucci giusto? con Petrucci l'ho visto sì l'ho visto ecco siccome qualcuno prima mi chiedeva è la nostra opinione adesso ho perso chi lo chiedeva ma insomma la domanda è chiara tu vedi allora ricordiamo che Petrucci è stato penalizzato con un long lap penalty che ha dovuto effettuare durante la gara come lo giudichi questo questo episodio? sì chiaramente ha sbagliato Danilo è arrivato è arrivato lungo come ha fatto un po' Michael purtroppo su Rasghiacciolo è arrivato un pelino lungo sicuramente sono anche molto risucchiati da queste aerodinamiche un po' come succedeva a Filippa non ti ricordi alla curva 1 anche se non avevi le carrenature con le ali però venivi risucchiato però ecco capitava in due piste in due curve adesso capita spesso secondo me questa cosa la turbolenza d'aria eccetera e MotoGP è molto anche più esaltato quindi accentuato cioè quindi ti puoi immaginare anche al Mugello un fondo rettilegno insomma le problematiche che ci possono essere quindi tante volte i piloti sono anche presi come di sorpresa vengono colti di sorpresa e non c'è poi il momento giusto per reagire non c'è più il tempo perché sei già addosso all'altro e quindi se non riesci a evitarlo lo prendi ecco comunque insomma nel caso specifico è vero che era il primo giro e quella variante lì insomma è molto stretta però mi sembra che Danilo si sia infilato in una maniera purtroppo esagerata in quel momento lì in quella posizione lì sì 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 lei sì perché tu entri a una velocità forte alla 1 ma quando fai il cambio la 2 è molto più lenta considera che si frena si scala una marcia almeno e cioè farai la metà della velocità che la curva precedente quindi è chiaro che ti trovi un po' i piloti fermi che stanno facendo la curva assolutamente ecco di questa storia che parlavi del risucchio eccetera capita anche nel tuo campionato con le 1000 che fai tu sì noi abbiamo delle sì sì abbiamo delle moto derivate di serie poi il regolamento è un po' open quindi le possono preparare il Civa invece è un po' più di serie però sì è capitato anche al Mugello che ti aiuta molto l'ala sul rettilineo perché passiamo 310 315 all'ora però quando vai la frenata devi pensare di non frenare attaccato a quello dietro o a destra o a sinistra perlomeno a me succede perché dopo non la controlli più Lorenzo perché poi tu freni allo stesso modo del giro precedente che magari molte volte si sentono i piloti ho fatto tutto uguale però ed è vero questa cosa in questo caso qua tiri una gran frenata e non importa essere a 30 centimetri come faceva Aga che in alcune curve ci baciava la ruota di dietro da quanto ci stava attaccato adesso è impensabile fare quella guida lì perché tamponeresti sempre il pilota che è davanti in alcune situazioni ecco allora torniamo ai nostri lettori qualcuno prima ho perso chiedo scusa ma scorrono velocemente qualcuno chiedeva di Ria se è arrivato al capolinea allora in una diretta che ho fatto con Alex Gramini che tu conosci grande Alex che saluto e anzi devo dire che è stato un tuo sponsor per questa diretta perché io appunto non vedendoti da un sacco di tempo ho chiesto a lui il tuo numero di telefono e poi ho detto ma lo posso coinvolgere ma sì è uno ganso è un ganso è uno ganso cosa ti ha detto è ancora abbastanza normale chiamalo ti ha detto così esatto grande Alex Gramini che salutiamo sempre con grande affetto ecco però in una diretta che avevo fatto con lui mi sembra dopo la seconda gara lui dice la Kawasaki è arrivata più di così non si può fare lui fa già dei miracoli per arrivare lì condividi questa opinione del Gram? sì la condivido assolutamente in pieno perché Johnny ha vinto sei mondiali non per caso nel senso che per merito suo sicuramente magari non c'era un livello altissimo però i mondiali non li cioè ne puoi vincere uno perché ti è andata bene ma non sei di fila quindi alla fine la Kawasaki fa i tempi fa alla fine è rimasta due anni fa secondo me più o meno si guarda in poche analizzi le gare eccetera lui ci mette sempre del suo sempre di davanti è dimagrito anche di più per cercare di sopperire alle mancanze con Bautista per dire la forza di voler tornare a vincere invece non è bastato perché sicuramente lui mi dà forti io l'ho visto l'anno scorso a Misano sono andato a vedere la gara quest'anno non c'ero lo vedi proprio che ci prova come fa il turco come fa Toprak però alla fine sono limitati si allora di Toprak ne parliamo poi nel finale perché volevo far contare con te un po' di argomenti su di lui vado a far vedere un attimo la classifica generale allora a me impressiona un dato che Alvaro Bautista allora non mi impressiona tanto che abbia cioè mi impressiona ovviamente che abbia 86 punti in più di eh insomma di Toprak non sono capace di dirlo ma ha il doppio dei punti del terzo in classifica cioè Locatelli ne ha 150 lui ne ha 298 quindi è praticamente il doppio ecco mi sembra un dato impressionante cosa dici Lorenzo? sì è una roba incredibile facendo tre gare hanno solo aiutato Bautista a vincere il campionato prima ecco esatto con il regolamento ma senti la provocazione le può vincere tutte da qui alla fine del campionato? è una provocazione però visto come sta andando eh penso proprio di sì perché in alcune piste dove Toprak l'anno scorso era riuscito a mettere il bastione tra le ruote quest'anno non ce la sta facendo non riesce a farlo neanche nelle Super Pole Race dove possono andare scarichi gomme ultramorbidi e tutto non riescono a tenere il passo di Alvaro è veramente informissima perché alla fine solo lui è così in forma con quella moto lì oggi mi è piaciuto ieri soprattutto tanto anche Michael che comunque dai è stato là davanti e però lui c'ha qualcosa in più non c'è niente da fare interpreta questa moto io a mio punto di vista nel senso che è una moto molto simile a a qualche Desmo 16 fa come è fatta con un motore portante V4 eccetera quindi secondo me lui ha ritrovato in parte quella moto che tanto gli ha dato un po' da fare in MotoGP ma che conosce benissimo e che la sfrutta al 100% con delle gomme più facili e quindi secondo me lui proprio è a suo agio su questa moto e queste gomme Scusami Lorenzo quando dici più facili fai capire a noi appassionati cosa significa Allora io ho provato diverse coperture in questi anni però ti dico te esci dal box sei nel paddock fai tutto il paddock anche d'inverno fai tutti i giretti tranquillo entri in pit lane pochi piloti ancora hanno quella più che capacità quella interpretazione di entrare e dalla prima curva spingere alla morte come facevamo nel mondiale quindi entrano passeggiano non vai per terra cioè puoi andare quasi senza le termocoperte faccio questa provocazione che non è vero però per farti capire no no chiaro è una gomma che ogni frenata è uguale se te la schiacci un pochino troppo in una frenata la senti quando te vai dentro lei ti dice esageri uno esageri due difficilmente ti scappa di colpo magari non so può capitare in una curva tipo la Misano 1 che c'è un avvallamento abbastanza importante quindi ti arrivi non sei giusto col gas o con la posizione talmente scarico l'avantreno che lì ti può partire ma capita raramente forse d'inverno fai contro febbraio è una gomma che da quando poi Pirelli ha fatto il 17 ha trovato proprio il top l'equilibrio l'equilibrio perché dura senza problemi quindi vai a Filippania vai in qualsiasi pista non hai problemi le temperature rimangono giuste la pressione non si alza quindi diciamo che tu puoi spingere in quel limite lì per 24 giri che non hai scherzi particolari e questo cosa vuol dire che ti permette di affinare al meglio la guida con la moto che non ti devi più preoccupare delle gomme non so come spiegartelo no 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 ma è chiaro mi sono fatto capire è chiaro che le devi rispettare le devi comunque un po' gestire non è che la gomma dietro la puoi massacrare dal primo giro però ci puoi pestare abbastanza sopra quindi te vai in sintonia con la moto col tuo assetto e puoi spingere giro dopo giro sempre uguale eccetera sei preciso nella guida puoi arrivare un po' lungo che non perdi di colpo il davanti per farti capire e quindi a me piace molto come gomma e la Pirelli non è mio sponsor quindi per farti capire lo dico sinceramente è chiarissimo perché dal 2003 che io uso Pirelli ho visto proprio la sua crescita esponenziale ma Lorenzo questo questa differenza di gomma ad esempio con la MotoGP che tu non le conosci perché non credo che tu abbia provato le gomme della MotoGP ma è questo che mette in difficoltà un pilota che viene dalla superbike secondo te soprattutto quello ancora più della potenza dei freni eccetera eccetera secondo me sì quella è la difficoltà più grossa che incontra un pilota che incontra un pilota oggi perché per dire mi sono trovato in delle prove libere a Misano che c'era anche Pecco e per dire scivolava la curva 1 anche con una panigale di serie per farti capire perdeva il davanti girava forte perché girava 36 35 e mezzo 35 però per dire nonostante che lui ci corra le conosca comunque una moto di serie eccetera che gira fortissimo però ogni tanto hanno questi questi scherzi qua perdono improvvisamente l'avantreno e mi ricordo che quel giorno aveva aveva Misselen appunto io andai proprio a vedere la misura tutto perché ero curioso di questa cosa qua io ho usato le Michelin in campionato americano nel 2004 ma non c'entrano niente con quelle di loro c'entrano niente certo bello vedere guidare Bagnaia con la Panigale a Misano sì perché la guida esattamente come la MotoGP e quindi va forte e quindi va forte ecco tornando a Bautista allora rimetto in sovraimpressione la classifica della Super Pole Race che è stata interrotta con tre giri di anticipo se non ricordo male perché c'è stato un incidente brutto che ho visto per volta ancora Petrucci Lecuona fortunatamente a meno per Petrucci si è risolto quasi senza danni anche se insomma aveva parecchio dolore Lecuona è stato dichiarato unfit per la gara ma volevo parlare di Bautista Bautista quest'anno l'anno scorso ha vinto il mondiale quest'anno però domina ancora di più dell'anno scorso è cresciuto ulteriormente la moto o è lui che ormai è arrivato a un livello con questa moto di affiattamento che è impareggiabile insomma come la vedi tu? Allora io credo che lui abbia proprio preso piena consapevolezza della sua forza e della forza del team credo che ci sia l'armonia perfetta adesso come può non esserci il team Aruba è un gran team li conosco tutto tutti da Cecconi a Serafino Foti comunque sono tutte persone che ci si stanchi bene insieme e quindi diciamo che loro anche con Michael secondo me lo fanno cercano di farti stare più tranquillo possibile e lui si sente come in famiglia molto più rilassato che il MotoGP e quindi riesce a ricavare il 120% da se stesso e dalla moto ok quindi però non c'è stato un avanzamento tecnico della moto è più proprio una questione di affiattamento del pilota con tutto il pacchetto è così sì io credo che abbiano fatto delle cambiamenti di ciclistica che sono andati bene dopo la prima gara abbiamo visto ancora più dominio diciamo e lì hanno fatto cambiamenti che sono piccoli sai link un pochino magari per far respirare un po' più la gomma quelle cosine lì no e quindi gli hanno agevolato magari altri un altro decimo due ed ecco fatto che va ancora più forte perché è stato tolto 250 giri però è chiaro che io c'è una curva di potenza che massima ce l'ho a 15.500 diciamo dico un dato no la moto gira a 6.500 se mi togli anche i 250 giri o 500 giri ma io tanto quando cambio marcia cambia a 15.500 15.800 io la piena potenza ce l'ho sempre ce l'hai sempre non cambia non cambia assolutamente niente e quindi è chiaro che ti può penalizzare un pochino per il rapporto ecco io c'è un rapporto preciso mi mancano 300 giri e devo cambiare marcia e quello può dare noia a un pilota se deve cambiare troppo durante la gara però come piena potenza non cambia niente perché la piena potenza è sempre in genere quasi 1000 giri sotto rispetto ai giri motore massimi e infatti per Bautista non è cambiato assolutamente niente da quando gli hanno tolto 250 giri allora Roberto ti chiede che cosa rimane della superbike che usavi tu la preparazione del pilota è cambiata molto sì io credo che adesso vadano letto prima i piloti quello sicuro quello sono sicuro anche ma anche in MotoGP mi ricordo anche in MotoGP assolutamente sì sì perché io mi ricordo che anche nel 2001 andavo letto a mezzanotte nel 250 mi infamavano tutti perché erano come le 10 di adesso dicevo non so ma dove andate in giro cioè da mezzanotte in poi domani ci sarebbe la gara quindi c'è sicuramente più professionalità i piloti sono sono cresciuti sono giovani sono assolutamente in gran forma ma lavorano tanto non stanno sicuramente alla Playstation questo te lo posso garantire perché portare al limite una moto del genere per 21 giri come era una Misano che inizia a essere caldo eccetera con tre gari in un weekend con tutte le prove tutto sì sono diventati delle piccole MotoGP in tutto secondo me eh sì è così quindi è cambiato molto rispetto a quei tempi ma ha ragione Lorenzo è cambiato molto anche in MotoGP allora ho lasciato l'argomento forte quello che fa discutere di più gli appassionati che è Ratzga Tloglu allora lui ha firmato per la BMW lo sappiamo allora intanto secondo te allora lui ha fatto questa conferenza stampa giovedì c'è stata una conferenza stampa della Yamaha dove c'era anche lui e praticamente da quello che ho letto io non c'ero però insomma lui ha fatto capire che non aveva una MotoGP a disposizione che il discorso con Yamaha MotoGP lì si è chiuso non so se per colpa della Yamaha o colpa del pilota non mi interessa ma di fatto quella possibilità lì non c'era allora lui dice lui ha detto per rimanere in Superbike avevo bisogno di nuovi stimoli e per questo sono andato in BMW allora io volevo sapere la tua opinione sulla scelta e poi tu hai corso con la BMW conosci un po' quell'ambiente lì giusto? sì ho corso sia nel mondiale che nell'italiano e era diciamo che era il team a Ruva prima che arrivasse a Ruva era il team BMW Italia che aveva la gestione praticamente uguale identico e in più c'era Rossano Innocenti che è uno dei più bravi preparatori diciamo a livello italiano per le BMW quindi diciamo che quello era un pacchetto abbastanza notevole no? gli inglesi non lo so come lavorano però è chiaro che dai risultati che hanno non mi sembra che siano i migliori ecco perché comunque ci è andato forte anche Marco Melandri ha fatto si è giocato il mondiale con Viaggi lo stesso Laverti stava davanti quindi se ci ricordiamo bene comunque avevano un pacchetto notevole io credo che da un lato sia un azzardo assoluto perché un po' come è successo a Redding o Bautista quando è andato via da Ducati che poi sono scomparsi dal podio e magicamente sono riapparsi quando sono tornati nelle moto competitive quindi da un lato posso capire anche lui non avendo la porta MotoGP aperta dice un mondiale l'ho vinto mi piacerebbe magari trovare una situazione che mi permetta di giocarmi un mondiale secondo me è stata anche magari la scelta che non ha avuto delle garanzie da Yamaha nel senso di dire mi immagino io la scenetta della serie non ti possiamo garantire che la moto nuova sarà perfetta per vincere il mondiale perché non lo sappiamo quindi alla fine giustamente le cose tanto fine è meglio saperle e andrà più forte sicuramente dei piloti attuali BMW però mi piacerebbe che avesse qualcuno a fianco capaci il team Yamaha di Dosoli gli ingegneri elettronici riconosco uno anche molto bene Christian loro sono veramente bravi ci ho anche lavorato ti dico loro sono a livello di Ducati tranquillamente ricavano veramente tutto da quello che si può ricavare da quella moto sono veramente bravi Yamaha il suo corso mi è piaciuta tanto è una moto ciclisticamente favolosa quindi ti permette di fare tanto è un dubbio grosso sicuramente non se lo aspettava nessuno questa cosa qua ti dico io perlomeno no ti dico la verità che scegliesse BMW non so ma un po' scettato no io poi sono abbastanza fuori dalla Superbike quindi non me l'aspettavo sicuro però io la vedo come la sfida del pilota perché tanti dicono ha scelto la BMW per una questione di soldi io non entro nel merito perché non conosco tu dici no 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 perché alla fine quando sono già un po' di anni che guadagni molto non è che 5 in più in un anno ti cambiano la vita tanto alla fine come fai a spenderlo o gli dai fuoco sennò cosa te ne fai nel senso alla fine vedi il numerino lì che cresce o sei un pazzo tipo come Tyson sennò è impossibile spendere tutti i soldi quindi alla fine credo che sia proprio uno stimolo lui personale che aveva bisogno di continuare esatto io lo vedo anche come la sfida del campione che dice Valentino Rossi il campionissimo con la Honda adesso vi faccio vedere che vinco anche con la Yamaha quella è stata la sfida che lo ha fatto diventare grande io credo che sia anche una roba un po' così ecco c'è Velenio che è un lettore che in realtà si chiama Lino molto appassionato molto competente che vive in Germania e lui dice che in Germania si dice che con l'arrivo di Toprak la BMW si impegnerà dall'interno perché ridi il team è pessimo il team è pessimo e comunque la Yamaha non aveva molto da offrire dovevano mandarlo in MotoGP ecco secondo te c'è la possibilità che BMW per come conosci tu le cose si possa impegnare dall'interno? allora secondo me da un lato sì perché comunque chiaramente il contratto è BMW non è il contratto di un team inglese che può permettersi secondo me uno stipendio del genere quindi già dal di lì c'è una voglia di avere il Turco in squadra e io spero che facciano veramente la differenza perché io poi nel campionato italiano c'è un ingegnere che è nato con me nel 2016 nel senso che è uscito si è laureato io ci ho lavorato insieme un anno abbiamo vinto una gara nel CIV insieme ed è cresciuto tanto è un ragazzo molto bravo e mi raccontava che lui è andato comunque a qualche gara e ha visto delle cose che non gli sono nel senso piaciute tanto dal lato soprattutto di elettronica della gestione cioè si aspettava di trovare un ambiente di un livello altissimo e invece mi raccontava che comunque ci sono diverse lacune questo mi spiega anche il fatto che sicuramente Redding non è come Toprak però che faccia così fatica per pestare nei primi 6-7 un pilota come Redding vice campione del mondo bella bella questa spiegazione che ci hai dato molto interessante ecco su Redding io dico anche che però è uno che lui almeno per quello che io l'ho visto in MotoGP se le cose non vanno minimamente come vuole lui non è uno che poi dà il 100% per provare ad arrivare almeno questa è la mia opinione non so tu come conosci Redding come lo valuti sì non è sicuramente come come Ray che è esatto che dicevi che ci tenta in tutte le maniere insomma lui io ti dico io l'ho visto Guida Ramizano e ti dico un 6 volte campione del mondo che comunque fa quelle cose lì è tanto di cappello no cioè alla fine ti viene da dire ma chi te lo fa fare di rischiare la vita per fare quinto quarto no ecco Redding non dà quella sensazione lì diciamo così che da fuori almeno a me non dà quella sensazione lì allora c'è Alex Innocenti che ti fa un sacco di complimenti e ti chiede anche se hai già provato la Panigale V4 con il doppio forcellone ricordiamo che nel 2025 dovrebbe arrivare la Panigale V4 con il doppio forcellone non so sì Alex è un pazzo disabile che corre in moto lui da tutto quel gruppo di Malagoli sono dei matti cioè lui è proprio sulla sedia a rotelle anzi saluto anche Axel l'altro ragazzo di Cesena che lo ringrazio che era del fan club che prima mi ha sfuggito e lui è un gran appassionato e vanno anche forti questi ragazzi cioè veramente hanno una voglia di fare che è incredibile io penso che non saranno contenti gli altri perché sicuramente sarà un aiuto in più io la mia ce l'ho chiaramente con il monobraccio la mia V4 è una 2023 che sto correndo e sì c'è sempre un pochino di movimento poi la mia tutta di serie chiaramente non troppo però credo che per la superbike possa assolutamente aiutare c'è più possibilità di movimento come lunghezza forcellone magari anche il pivot lavora meglio quindi alla fine piuttosto che l'eccettrico del monobraccio quindi credo che alla fine quello sarà assolutamente un vantaggio per Bautista ecco ci manca anche quello ecco Lorenzo adesso io ti faccio un commento molto tecnico proprio tecnico da paura io devo dire che però il monobraccio da vedere esteticamente da appassionato di moto è bellissimo poi se tutto il mondo usa il forcellone a due braccio vuol dire che va meglio è ovvio però da vedere secondo me è veramente molto bello allora Lorenzo siamo in chiusura allora intanto prima di ringrazzarti ma qua non lo faccio alla fine raccontaci ancora qualcosina di Troy Belis che ci hai fatto venire un po' di voglia di quelle storie lì di quel personaggio lì veramente veramente meraviglioso se hai qualcosa da raccontarci naturalmente sì lui quando io andavo un decimo più forte si arrabbiava molto però veniva lì al computer e guardavamo per dire la telemetria insieme cioè per farti capire per dire perché sei andato un decimo più forte fammi vedere dove per dire questo è un'altra aneddota no ah te perché fai così col gas cioè per dire una persona che come dire voleva imparare qualcosa da me che non ero nessuno di fatto quindi alla fine questo confronto era bello che tra di noi tra l'altro c'era anche più di dieci anni di differenza di età eh sì ma tu facevi facevi uguale con lui cioè spiegami come fai ad andare così forte o no o era impossibile sì 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 noi guardavamo spesso i dati i nostri dati erano assolutamente condivisi poi anche a volte guardavamo guardavamo assieme però lui non era tanto bravo a spiegare capito quindi perché molte volte un istintivo non lo sapeva neanche lui cosa faceva nel senso però andava forte e quindi lui aveva una grande dote che era quella di eh aprire prestissimo in uscita di curva che Ducati chiaramente te lo permette di natura da sempre poi con l'ultraliccio ancora di più secondo me però eh in molte curve dava fai conto il 20% in meno di gas di me però andava magari mezzo secondo più forte quindi aveva proprio una gestione perfetta ottimale dell'uscita della curva sfruttava al meglio quello che era la potenza della moto e l'uscita e l'uscita di curva perché puntava il gas quanto serviva per mettere in posizione la moto poi dal grafico tu vedevi che lui aspettava e poi al momento migliore iniziava ad andare su su con il gas così la moto non si scomponeva usava pochissimo traccio contro il tripostoner e quindi sfruttava al meglio la potenza che bello sai che Lorenzo a me parlare con i piloti mi piace da matti perché insomma spiegate delle cose che noi umani non riusciamo a vedere a capire insomma e quindi bello proprio bello 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 senti questa andammo al motor show andammo al motor show a fare memoria albetica con le panda ci portarono queste panda eccetera allora iniziamo a girare e subito sai i piloti iniziano no ma te lì cosa fai usi il fanamano la marcia allora io vado già vado già da Troy vado da Troy ma sapevo già la risposta allora vado con un mio amico da Troy e dico dai Troy eravamo lì mi sembra io ero primo secondo secondo e terzo comunque eravamo davanti c'era Dovi c'era Marco è stata una bella giornata anche quella allora sì io perché arrivo giù metto la terza poi metto la seconda e mi fa ma quante marci ha sta macchina quindi ho detto vabbè ho capito siamo lì soliti che grande che grande bene allora Lorenzo volevo chiederti una cosa della tua Romagna che purtroppo anche oggi mi è stato segnalato che insomma ci sono state delle piogge molto forti e dopo io manderò una da questa settimana insomma assieme a Lorenzo Reggiani Lorenzo Reggiani mi ha inviato un filmato che hanno realizzato Dovizioso Casadei insomma alcuni piloti per aiutare la pista di Galliano perché la pista di Galliano purtroppo è sott'acqua sotto fango sotto tutto quello che non va bene tu hai mai girato a Galliano? sei mai andato a girare a Galliano? no ma l'ho vista perché noi hanno io non sono mai stato un fan delle minimoto te lo dico anzi non mi piacevano per niente quindi ho fatto due o tre mesi di gare poi ho smesso e ho iniziato subito small production perché non mi piaceva però sì conosco la pista di Galliano dei miei amici ci vanno spesso e la Romagna è stata colpita al cuore duramente questa volta e poi sai come adesso piove anche poco ma ci sono chiaramente tutte le fognature chiuse tappate quindi subito ci si riallaga per quel motivo lì e lì mi piacerebbe che qualcuno di importante veramente facesse qualcosa questa volta di sistemare le cose perché sarebbe ora insomma mi piacerebbe che aiutassero veramente queste persone ma per davvero perché poi passano due o tre settimane un mese la gente si dimentica e poi ci si dimentica purtroppo ed è lì che deve intervenire la politica seriamente con i soldi non per finta e ridare alle persone proprio oggi ho visto un mio amico che aveva un mulino lì vicino al Ponte Vecchio quindi l'attività le auto ha perso tutto sono disperati quindi ancora non si è fatto vedere sentire nessuno sono abbastanza arrabbiati mannaggia mannaggia ecco va bene comunque io manderò questo contributo per se qualcuno ha la possibilità di insomma di aiutare la pista di Gagliano è sicuramente beneficenza ben fatta Lorenzo allora non mi ricordo l'ultima volta che ti avevo visto ma almeno 20 anni credo o no sicuramente io avevo i capelli vedi io ce li ho ancora quindi tu ce li ho ancora io no grande no comunque Lorenzo mi ha fatto moltissimo piacere è stata una diretta per me interessante mi sono divertito ho imparato delle cose ho visto una visione la tua molto interessante insomma quindi grazie davvero Lorenzo ti coinvolgerò ancora se ci sarà la possibilità in una delle mie dirette molto volentieri grazie di avermi chiamato mi ha fatto piacere rivederti e magari ci vediamo in pista grazie a tutti i ragazzi che ci seguono che ci supportano ancora perché senza i tifosi finissi non si vada nessuna parte è vero prossimo appuntamento Lorenzo in pista quando? a Vallelunga il 18 di giugno il 18 di giugno è il campionato il CIV giusto? sì esatto ok come sono andate le prime gare? che non ho seguito non troppo bene ho fatto un quinto due quinti e un settimo mi aspettavo un po' di più perché in prova siamo abbastanza veloci quindi ci sono due o tre cose da sistemare purtroppo non vado in moto da ottobre quindi ogni anno è sempre difficile ricominciare a stare poi credo che tutti quelli che ho davanti hanno almeno la metà dei miei anni quindi sai quello non aiuta e non aiuta di sicuro va bene Lorenzo davvero grazie ancora grazie della disponibilità è stato per me un piacere in bocca al lupo per tutto ciao Lorenzo grazie Zamm un abbraccio ciao ottimo grande gravereo grande Lorenzo e adesso io vi lascio con il contributo di Loris Reggiani ciao a tutti grazie e buona serata aiutateci ad aiutare la pista di Galliano a ripartire la pista dove praticamente sono cresciuto e dove amo anche di più allenarmi purtroppo a casa della Luviana ha perso tutto e quindi dobbiamo aiutarli e mi raccomando ragazzi SS Galliano c'è bisogno dell'aiuto di tutti per aiutare Galliano a ripartire quindi bisogna stare vicino e così al più presto si potrà tornare ad allenarsi alla pista di Galliano che è sempre fighissimo quindi aiutiamole penso non possa esistere un mondo senza Galliano Park quindi vi chiedo per favore di darci una mano a ripartire a ripartire a ripartire il messaggio è SOS Galliano andate sulla pagina www.sosgalliano.it e troverete tutte le indicazioni per partecipare a questa iniziativa è una specie di fai beneficenza aiuta divertendoti portiamo portiamo sto personalmente ricondizionando tutte le moto elettriche di Galliano le Thunderbolt e le porteremo in pista alle ultime tre gare nostre tre gare di trofeo che sono una la prossima a Pomposa poi la seconda a Ottobiano e l'ultima a Cremona ci sono quindi otto moto per tre gare 24 selle da vendere per aiutare Galliano nel pacchetto è compreso tutto la licenza l'iscrizione la moto in pista e un minimo di assistenza venite tutti aiutate divertendovi ripeto siamo lì dobbiamo aiutarli a ripartire un grande abbraccio a tutti buona giornata a presto in pista a presto